Odu Italia, a fianco delle imprese italiane. E accogliamo con un applauso Mario Riva, che è una delle figure storiche dell'associazione Odu Italia. Tra l'altro è una delle prime persone che ho conosciuto quando mi sono avvicinato all'associazione, nel lontano 2009. Sì, esatto. Non so se sono... si sente? Si sente? Ok. Però sei più bello in foto. E vedi? Mario Riva di Tacobi, che inizia questa giornata con un bel applauso e buon lavoro. Grazie. Ecco qua. Bene, buongiorno a tutti, bentrovati. Come ha detto Andrea, sono Mario Riva, mi occupo di consulenza funzionale su Odu in Tacobi. In questo talk vi voglio un po' raccontare, fare una carrellata di moduli del mondo OCA che ho trovato interessanti. In questa slide rappresento un po' quello che succede spesso nella mia giornata o nella giornata di un funzionale. Quindi tipicamente il cliente espone un'esigenza, noi iniziamo a pensare se questa esigenza sia coperta o meno da quello che è Odu Core, quindi quando mi riferisco in questo caso a Odu intendo il Core di Odu, e poi cercando all'interno dei moduli dell'OCA, il funzionale trova, in tanti casi troviamo, una soluzione, una buona base di partenza. E lì vedete, quello sono io che faccio i salti di gioia. Allora, una breve introduzione. Quindi quello che dicevo è, esiste i moduli rilasciati da Odu a livello open source, qui definito come Odu Core, e poi attorno a questo centro di moduli c'è tutto l'ecosistema dei moduli dell'OCA. E in particolare noi andremo a concentrarci in questo breve talk sui moduli della versione 14. Come si è detto anche ieri, Odu rilascia ogni anno una nuova versione, quindi lì vedete 12, 13, 14, eccetera. Le versioni che ho scritto in grigio, cioè le versioni dispari, sono quelle che come associazione, come Odu Italia, saltiamo a livello di localizzazione perché non ci si riesce a spostare tutti i moduli di anno in anno. Quindi a un certo punto si è deciso di seguire solo le pari. e quindi noi i moduli che vedremo oggi sono quelli della 14. Innanzitutto quello che dicevo è, c'è un'esigenza e come funziona, o meno come faccio io a vedere, a cercare se qualcosa esiste già tra i moduli OCA. Beh, innanzitutto uno può cercare su Google, quindi mettendo OCA e poi magari qualche parola chiave, quindi partner, come in questo caso partner Ateco, oppure la funzionalità, è molto probabile che esca un qualcosa, essendo molto ben indicizzato, di già esistente. Oppure si può cercare direttamente sullo shop di Odu Community, oppure su Github, quindi queste sono le tre modalità che vi consiglio che potete utilizzare. Ok, partiamo, come dicevo, faccio una carrellata di alcuni moduli che tanti di voi magari già conoscono, però per chi è magari un po' più nuovo in Odu possono essere interessanti. Partendo da moduli, ad esempio, sull'anagrafica, abbiamo due moduli che sono dei repository LG CINI Italy e sono per aggiungere un codice Ateco sul partner e i campi relativi ai codici REA sull'anagrafica partner e anche sull'azienda. In questo secondo caso, valorizzando questi campi, il campo registro imprese viene valorizzato in automatico. Un altro, altri moduli che possono essere interessanti sull'anagrafica partner, sono un modulo che va ad aggiungere sul campo riferimento del partner un sequenziale, quindi tutte le volte che andate ad aggiungere un nuovo partner, viene aggiunto un riferimento. Un modulo, Partner Mobile Unique, che va a verificare che il campo del cellulare, praticamente sul contatto, sia unico, così come un altro modulo che va invece a verificare che sia unico quel campo di riferimento sul cliente, sul partner in generale, se andiamo a inserirlo manualmente. Quindi questo per evitare di avere dei duplicati. Anche se poi ci sono moduli che non ho inserito in queste slide che permettono di andare a verificare, andare... Mi scrivono? Zona grigia. Qual è la zona grigia però? Sei giusto. Non ci vedo fin là, quindi è dura. Quindi dicevo, ci sono dei moduli che permettono di andare a verificare i duplicati, quindi andare a unificare i contatti. Altro modulo che va a verificare la parte di unicità, ad esempio in questo caso dell'email, è questo modulo, Partner Email Check, che va a fare un controllo formale sull'email, va a verificare l'eventuale unicità e nel caso sia configurato un host, è possibile andare a verificare che effettivamente questo email esista. Quindi viene fatto un tentativo di invio. Alcuni moduli legati sempre ai contatti, un paio di elementi, ai contatti ma alla parte indirizzi, sono questo modulo, Base Location Geoname Import, che permette di importare il database Geoname, che è un database internazionale, con una serie di riferimenti geografici, quindi all'interno di U2 è possibile, tramite il wizard che vedete lì sotto, andare a importare tutti i riferimenti di un determinato, ad esempio dell'Italia, e nell'anagrafica Parne viene aggiunto un campo, autocompletamento, e iniziando a scrivere, come in questo caso, vengono indicati città, cap, la provincia, la nazione, eccetera. Quindi è utile per inserire i dati e fare l'autocompletamento di queste informazioni a livello di indirizzi. Un altro modulo analogo è il Base Location Nuts, che permette appunto di importare i nominativi della nomenclatura comune europea. In questo caso qua abbiamo due moduli, il modulo quello generale, e poi un modulo della localizzazione italiana, che permette di collegare le regioni in U2 di livello 4 con le province italiane. Partita IVA, quindi rimanendo sempre su una grafica, abbiamo una grafica contatti, abbiamo il modulo Partner VAT Unique, che va a verificare che la partita IVA sia unica. Questo è un qualcosa che in passato, comunque che spesso i clienti ci dicono, ma come mai non c'è in U2 un qualcosa che permetta di non creare duplicati sui contatti, sulle aziende? Questo modulo, facendo una verifica a livello di partita IVA, risponde a questa esigenza. Così come il modulo CRM Lead VAT va ad aggiungere una... scusate, ho cliccato... va ad aggiungere il campo, la gestione della partita IVA già a livello di CRM, quindi già sulla parte, la parte Lead. Adesso non funziona. O funziona troppo? Ecco, forse, già fatta. Passiamo adesso alla parte invece più dei documenti, dei preventivi. In alcune realtà può essere utile avere una revisione a livello di preventivo. Quindi sulla parte di ordini preventivi, ordini di vendita, cosa può succedere? Che noi mandiamo un preventivo da un cliente e questo cliente poi vuole una revisione. Quindi una possibilità con questo modulo è quello di, appunto, seguendo i passi che sono indicati nella slide, quindi annullando e cliccando nuova copia del preventivo, viene creata una nuova revisione, quindi con la stessa numerazione, con un suffisso che indica un sequenziale, quindi sarà in questo caso il 28.1, il 28.2, eccetera, e il preventivo precedente viene archiviato, quindi non lo ritroviamo più nella ricerca, però possiamo comunque poi recuperarlo tramite, sulla 14, questo smart button che permette di recuperare tutte le revisioni per un eventuale controllo e verifica successivi. Preventivo numerazione, anche qua è sempre legato al mondo preventivi, può succedere in UDU la numerazione è unica, quindi ne facciamo il preventivo e poi la conferma di preventivo mantiene la numerazione, cambia solo lo stato. Ci sono realtà che preferiscono mantenere separate quella che è la numerazione di preventivi da quella che sono gli ordini di vendita, perché magari si fanno 100 preventivi e poi c'è una conferma e quindi questo modulo permette di avere due sequenziali, lì poi è indicato nei dettagli, tanto le slide poi verranno pubblicate, quindi non sto ad andare troppo nel dettaglio, comunque due sequenziali, quindi magari arrivo a 100 con la numerazione di preventivi e poi alla conferma quel 100 diventerà uno a livello di ordine di vendita. Rimanendo sempre in ambito preventivi, ma poi andando anche a vedere quelli che sono i documenti successivi, quindi la parte sia di trasferimenti di magazzino sia di fatturazione, un elemento che può essere utile per aziende che fanno preventivi con tante righe, e quindi conferme d'ordine di conseguenza e movimenti di magazzino, questi moduli, quindi sono, vedete, li sono nei vari rep, in base al fatto che siano sulla parte di sale, sulla parte accounting, sulla parte acquisti, sulla parte magazzini, aggiungono semplicemente un sequenziale a livello di riga sia sulla vista, sul form, dei vari oggetti che ho indicato, dei vari model, sia sulla reportistica. Questa sembra una banalità, però in aziende che hanno, magari che fanno un preventivo molto lungo, con tanti oggetti, tutti simili, tanti prodotti, quello che solitamente succede è che magari il cliente chiama e dice, ah guarda, quel prodotto che c'è alla riga 120, in realtà invece che tre pezzi, mandamene quattro, quindi è un modo semplice per avere un riferimento preciso su quello che è la richiesta. Sono andato indietro? Ok. Rimanendo sui preventivi, un paio di moduli che aiutano a fare quello che io ho chiamato preventivo di creazione veloce, cioè in realtà può succedere che il riflusso standard, perlomeno parliamo di O214 community, è quello di andare a, è entrato nel preventivo, fare aggiungirighe e aggiungere un elemento alla volta. Con questo modulo, sale product multi-add, possiamo andare a selezionare, quindi quando facciamo aggiungi prodotti multipli, ci si apre una finestra, un pop-up, all'interno di questa finestra possiamo filtrare o raccruppare i prodotti, ad esempio per categoria o per una delle varie modalità possibili di ricerca, quindi inizio del nome, quindi non so, immaginiamo di voler fare un preventivo con dentro tutti i prodotti di una certa categoria, li selezioniamo, c'è un passo successivo che ci permette di aggiungere una quantità e poi, diciamo, alla conferma, tutto quello che abbiamo indicato in queste due finestre va a finire come righe normali del preventivo, quindi questo è un modo, per esempio, per caricare in blocco un insieme di prodotti o anche di servizi. Un altro metodo è quello del sale product set, cioè è possibile definire dei set di prodotti o di servizi e caricare questo set, quindi andarlo a selezionare e caricarli all'interno di quello che è un preventivo. Questa modalità è un qualcosa di alternativo, comunque ha un funzionamento un po' diverso rispetto a quello che può essere il kit all'interno di UDU, anche di UDU standard. Mentre il kit sul preventivo vedremmo una voce e poi a livello di trasferimento di magazzino o di produzione avremo tutte le varie righe, qua abbiamo già subito, fin da subito nel preventivo i vari elementi presenti nel set. Quindi per il cliente il set è un qualcosa che non vede, è qualcosa di trasparente. Parliamo di moduli legati alla scontistica. Ci sono vari moduli e in questo caso vedete un primo modulo Base Global Discount e questo è un modulo possiamo definirlo un modulo dipendenza un modulo tecnico in OCA all'interno dei vari repo in alcuni casi in molti casi trovate dei moduli che non hanno una vera e propria funzionalità. Quindi se installate solo quel modulo non ottenete una funzionalità ma ottenete una base che permette poi ad altri moduli che andranno a estendere quella base di avere poi appunto di fare da base su cui costruire. Quindi ad esempio questo Base Global Discount è la base su cui si appoggiano poi gli altri moduli. Questi moduli permettono di aggiungere degli sconti globali all'interno dei vari documenti quindi in questo caso nei documenti sale quindi nella parte di preventivazione oppure l'account Global Discount va ad aggiungere degli sconti sulle fatture. Lato acquisti una situazione analoga l'abbiamo anche lato acquisti c'è un modulo Process Discount che permette di definire sconti a livello di riga sull'ordine di acquisto è un qualcosa un po' meno conosciuto infatti io l'ho scoperto non so po' di tempo fa ma non agli inizi però alcuni alcuni clienti vogliono tenere traccia anche del fatto che il listino del fornitore è 100 però a lui viene applicato uno sconto del 30 su quel prodotto vogliono avere evidenza proprio sul documento di acquisto. Gli altri due moduli Order General Discount permette di impostare uno sconto generale e quindi a livello di documento generali si applica uno sconto che poi viene ripetuto su tutte le righe e invece l'Account Involved Fixed Discount applica uno sconto fisso quindi estende la fatturazione per permettere di definire uno sconto fisso a livello di riga quindi non a percentuale come lo standard ma una voce fissa un valore fisso Progetti sull'ambito progetti piccola parentesi io ho preso alcuni moduli all'interno dei vari repo ci sono tantissimi moduli interessanti anche nell'ambito progetti veramente c'è di tutto c'è veramente tante funzionalità coperte oltre a quello che è lo standard in questo caso una cosa carina interessante è questo modulo Project Status qui ho messo le due slide in cui si mostra quella che è la situazione dei progetti quando avete tanti progetti qui non avevo tantissimi però alcuni progetti che rimangono lì quindi non hanno uno stato e quindi sono tutti un po' mammucchiati all'interno della per la videata invece la possibilità con questo modulo è quella di dare uno stato anche al progetto i lavori hanno già all'interno del progetto hanno già delle fasi la stessa logica applicata al livello di progetto e quindi questo torna utile per dire ho creato un progetto potrei averlo creato di qua oppure potrebbe essere partito da un ordine di vendita è ancora una fase non definita non è ancora partito oppure è un progetto in corso oppure è un progetto che per me è chiuso si può mettere anche all'interno della camba in una fase chiusa ristretta in modo tale da avere tutti i nostri progetti chiusi che occupano poco spazio però volendo più non va a riprenderseli quindi serve per tenere ordinato un po' la vista con i vari progetti questi altri due moduli parlando sempre poi sono stati ripresi anche ovviamente dal mondo poi O2 mondo enterprise sono due moduli che permettono di far partire un timer come quello che sto vedendo qua che crea ansia chissà cosa succede non esplode fa partire il timer sulla parte di di work log sulle righe dei dei lavori si può far partire sia a livello di progetto quindi io faccio via lavoro un po' come sulla produzione insomma è stato un po' mutato da quel da quel ragionamento quindi faccio partire un timer inizio la mia attività quando faccio partire vado a descrivere cosa sto facendo e quando ho finito metto stop è molto è molto utile noi lo usiamo internamente e insomma uno non deve se vuole rendi contare in modo abbastanza preciso i tempi è interessante perché non devi star lì a vedere ah quando ho iniziato a fare questo lavoro adesso ho finito ma ci avrò messo mezz'ora ridono perché poi mi dimentico di insegnare le cose e i miei colleghi ridono e quindi questo sono due moduli utili insomma all'interno dei progetti listini listini dodo molto flessibili tantissime possibilità un paio di moduli che ho trovato che abbiamo anche utilizzato che abbiamo presso clienti quindi utili product price list revision che permette di vedere le regole di listino quindi qui insomma do per scontato diciamo che non vado a approfondire quello che è il funzionamento dei listini di Odu però diciamo all'interno del listino ci sono delle regole di listino e questo con questo modulo li vediamo all'interno di una vista all'interno di una preview e e questo permette ad esempio di andare a fare delle revisioni su queste righe torna anche utile quando si vanno a importare delle regole da un csv perché diventa comodo averli su su quel tipo di vista e un un altro modulo invece utile è questo partner price list search che aggiunge l'opzione di ricerca all'interno dei partner quindi nella grafica partner è possibile cercare per listino e dall'altra parte sul listino con lo smart button customers permette di vedere quali sono i listini cioè per dire vedere quali sono i clienti che utilizzano questo listino quindi è abbastanza comodo storicizzazione alcuni moduli per andare a memorizzare quello che è lo storico dei prezzi in questo caso questo modulo purchase last price info aggiunge le informazioni dell'ultimo acquisto del prodotto quindi aggiunge alcuni campi che mi dicono da chi ho comprato a quale prezzo quando purchase order line price history invece aggiunge sulla riga del la riga di un preventivo di acquisto aggiunge la possibilità di andare ad aprire un pop up con la cronologia dei miei acquisti e eventualmente impostare uno dei prezzi che avevo già utilizzato in passato stessa cosa vista lato vendite quindi in alcuni casi come in questo quindi acquisti vendite troverete dei moduli che sono analoghi però speculari un po' come comunque nella logica di Udo quindi in questo caso l'ho aggiunto per completezza quindi trovate le stesse informazioni mondo account un modulo utile per chi deve fare registrazioni contabili ricorrenti magari gli stipendi qua c'è un esempio di registrazione di corrispettivi e questo modulo account move template che permette di creare un modello di registrazione e questo modello di registrazione lo potete poi andare a richiamare e lavora sia con un input utente quindi voi inserite una voce in dare su un determinato conto dare una avere e poi con dei campi invece calcolati quindi qua ad esempio c'è un inserimento registrazione di un corrispettivo e abbiamo registrato quello che è l'incasso sia tramite post sia tramite contanti e poi le altre righe vengono calcolate andando a estrapolare l'IVA e facendo le altre operazioni quindi questo assolutamente può essere dato per questa cosa qua per ad esempio per il calcolo per la registrazione degli stipendi è molto utile per chi deve fare operazioni che di fatto poi sono sempre le stesse accounting voice merge invece è un modulo che permette di unire più fatture quindi nel momento in cui abbiamo magari una serie di fatture fatte da ordini di vendita o da situazioni non so da vari DDT poi si fanno le varie fatture sono tutte in bozza questo ci permette di unire in unica fattura andando ad annullare quelle da cui parto quindi il risultato che ottengo è un'unica fattura con tutto insieme e quelle esistenti vengono annullate ci sono alcuni vincoli per cui ad esempio il tipo fattura deve essere lo stesso quindi posso unire fatture cliente con fatture cliente o con note di credito il partner deve essere lo stesso la valuta deve essere la stessa eccetera quindi è un modo per unificare le varie fatture account lock date update invece è un modulo che permette a un utente tipo supervisore senza avere le funzionette tecniche di andare a impostare delle date tali per cui prima di quella data non si possono più fare delle modifiche quindi questo ad esempio evita che poi vengano fatte delle modifiche su documenti che vanno a scrivere su situazioni contabili in un periodo che in realtà doveva essere già chiuso e quindi genera poi delle incongruenze widget di riconciliazione ieri Simone Orsi diceva ci sono elementi questo è quello che succede cioè elementi moduli funzionalità del mondo community vengono ripresi nelle varie versioni integrate in quello che è lo do core quindi viene esteso do core in questo caso sulla 14 la parte di riconciliazione è finita nell'enterprise quindi a livello community si è deciso di riportarla comunque di ricostruirla anche se in modo un po' diverso sulla parte anche community quindi abbiamo sia la parte un widget che permette appunto di andare a fare la riconciliazione sia sulle fatture sia su linee generiche riconciliazione generiche account state import txt eccetera permette di importare allora diciamo per un utilizzo della gestione dei conti bancari e la riconciliazione con i conti bancari è possibile andare a importare questi conti bancari tramite ad esempio csv sullo standard con questo modo è possibile andare a creare delle mappature e utilizzare vari formati quindi txt csv xls eccetera può essere comodo perché se avete più bank che hanno dei tracciati lievementi diversi vi create la mappatura e andate a importare questi dati account financial risk è un modulo che aggiunge sul partner un controllo diciamo di rischio finanziario è abbastanza articolato quindi permette di andare a mettere delle soglie su una serie di punti quindi fatture aperte o tutto quello che trovate poi lì nella slide altri importi contabili eccetera si può decidere una soglia e nel momento in cui io vado a fare un ordine di vendita e poi una fattura e cerco di validare una fattura se sono oltre questa soglia in base anche al ruolo che io ho se utente o supervisore avrò o un warning o un blocco rapide alcuni consigli diciamo così di configurazioni dipendenze diciamo che nel momento in cui andate a utilizzare la parte di localizzazione italiana dipendenze diciamo così di funzionalità ad esempio il modulo un modulo che può essere utile per generare quelli che sono gli intervalli di data è il modulo date range e gli intervalli di data quindi il periodo non so voglio fare la liquidazione IVA nel trimestre oppure voglio fare il bilancio dall'1.1 al 31.12 questo modulo permette di creare degli intervalli di data è un qualcosa che nel momento in cui andate a utilizzare la localizzazione vi ritrovereste quasi come dipendenza cioè provate a fare la stampa della liquidazione IVA e vedete che vi serve indicare un intervallo di data con questo modulo li create in automatico e poi li avete li potete andare a utilizzare arrotondamento sulla localizzazione italiana l'arrotondamento deve essere indicato come globale abbiamo queste due opzioni in Odu però l'arrotondamento globale è quello da utilizzare per poi non avere problemi a livello di fatturazione elettronica diciamo dopo aver inviato la fattura al sistema di interscambio perché poi vi torna indietro in alcuni casi può tornare indietro con problemi di arrotondamento modulo di rizzonte d'acconto vi consiglio di configurare almeno una ritenuta d'acconto ad esempio la DC40 che è quella più usata forse più conosciuta perché nel momento in cui vi arriverà una fattura fornitore con quella ritenuta d'acconto ve la ritrovate già quindi verrà caricata in automatico all'interno delle vostre fatture importate altro elemento di configurazione è il gruppo conti che viene usato nelle varie stampe di bilancio quindi è una dipendenza diciamo di quei moduli l'account invoice con straight chronology invece è un modulo che vi permette di verificare la coerenza delle date delle fatture rispetto alla numerazione quindi è un modulo che vi evita di fare degli errori in cui la data è sbagliata o è successivo comunque ci sono delle incoerenze rispetto a quella che è la numerazione fine grazie Mario grazie Mario contributo importante perché molti moduli di fatto li utilizziamo quasi tutti soprattutto noi gli storici che è utile come dire divulgare e far conoscere partendo da quello che abbiamo visto ieri con Simone e con altri relatori allora abbiamo tempo per qualche domanda in attesa che arrivi il prossimo relatore dovrebbe venire Ivan se ci sono domande intanto utilizzate sempre il canale telegram per inviare domande ai relatori poi ripeto alla fine degli due days avremo un riepilogo di tutte le domande che sono state fatte con le varie risposte link per recuperare le slide per rivedere i video di questa conferenza e metterci anche in contatto con i relatori tu sei stato esaustivo di caffè non sono ancora stati sufficienti secondo me perché dopo la cena di ieri sera la seconda giornata è sempre un po' lenta tranquilla nulla su barcode in magazzino va bene arrivata una sì c'è un modulo che permette di gestire i barcode sulla community sulla lettura dei barcode in magazzino se si esiste noi lo utilizziamo in Tacobi quindi noi siamo sulla 12 c'è anche sicuramente sulla 14 abbiamo bisogno di open upgrade allora è ora va bene dillo qui due no io con Lorenzo non ci vedo va bene grazie grazie a voi Odoo Italia a fianco delle imprese italiane